Luce spente e scranni vuoti stamani intorno alle 11 per una seduta del Consiglio Comunale che si chiude con un nulla di fatto, l'ennesimo Palazzo del Carmine. Peccato che oggi all'ordine del giorno vi fosse un argomento di primaria importanza, ovvero l'approvazione del conto consuntivo 2011 già bocciato in commissione e bilancio. Così con una missiva firmata dai consiglieri comunali Ugo Olovalvo e Felice Dierna dell'Udc, Angelo Scalia, Silvano Licari, Lela Montagnino del PD, Riccardo Rizza dell'MPA, Massimiliano Turco del Gruppo Misto, Alfredo Fiacca Brino di DVI ed Antonio Famata ancora del Gruppo Misto, viene espresso tutto il disappunto per una situazione politica tutt'altro che lineare a Palazzo del Carmine. Per l'ennesima volta, dicono i firmatari del documento, si è assistito al teatrino delle assenze programmate da parte dei partiti della cosiddetta maggioranza e di alcuni esponenti dei partiti facenti parte ufficialmente dell'opposizione, utile alla mancanza del numero legale per evitare l'ulteriore bocciatura del conto consuntivo anche per il 2011. Ciò dimostra, continuano i consiglieri, come ormai da parecchio tempo alcuni consiglieri dell'opposizione all'occorrenza facciano da stampella l'amministrazione, continuando quel vecchio modo di intendere la politica come mezzo utile per i propri interessi. L'assenza del sindaco, esponenti della giunta e dei consiglieri comunali dimostrano come tale teatrino fosse stato in precedenza organizzato. Questa variabilità continua della maggioranza impedisce il raggiungimento degli obiettivi che l'opposizione vera ha sempre cercato di raggiungere. Per tale ragione i consiglieri di opposizione firmatari del documento ritengono di non partecipare al voto nella seduta di domani, 21, al fine di far assumere le conseguenti responsabilità ai consiglieri di maggioranza che sostengono Campisi. Sicuramente non saremo presenti al voto, non so se saremo presenti in Consiglio Comunale. Deremo la possibilità a questo punto alla maggioranza che oggi era quasi completamente assente di raggiungere il numero regale, quindi potessi votare e prendersi la responsabilità di votarsi di approvare questo fondo consuntivo, che per noi non va assolutamente bene e che come opposizione avremmo bocciato sicuramente.